e voilà siamo qua di 11 e 9 minuti primi e arriva come ogni giorno la mia voce ma soprattutto arriva radio doc detto tra noi detto tra noi oggi nella prima ora avrà un ospite veramente a doc diciamolo un qualcuno che voi già avete conosciuto sia perché ha partecipato ha detto tra noi sia perché l'avete ammirato questo qualcuno e nel doc night live chissà perché non facciamo altro che menzionare questo famosissimo e fortunatissimo programma e allora chi ha come dico sempre io la gioia di vederci nella diretta facebook già ha visto una ragazza che a dire il vero è veramente stupenda dai vi saluta è vestita la page guarda quante sei che si aggressivo se ne dire lei e simone clacchi non la conosce buongiorno a tutti ciao terri sono felice di essere qui nuovamente con te con tutti quelli che ci stanno ascoltando e che dire sempre buona musica si sempre quello buona musica poi tu poi tu a dire il vero non puoi fare a meno di parlare di buona musica perché vorrei che tu ti presentassi un tantino ai diciamo non sono più sicuramente saranno meno voglio dire che non ti conoscono il bacino è molto ampio per cui è possibile che qualcuno non ti abbia mai sentito alla radio molto probabilmente magari in qualche concerto sia la radio no e allora vogliamo presentarci un tantino ok andiamo nell'ambito professionale diciamo certo allora io sono il soprano lirico simona calà esercito appunto la professione di cantante lirica e mi servisco come concertista e anche vado a fare stagioni operistiche in teatro sono stata a parigi padova anche all'estero quindi spazio e anche qui nella zona giustamente con i miei concerti le mie esibizioni varie insegno anche sono una professoressa di musica e insegno quest'anno dicevo in treplessi scolastici san piero patti librizi montalbano e ne approfitto per salutare tutti i colleghi la dirigente esquisitissima e i miei allievi certamente che stanno lì per ora a seguire e senti come sono questi allievi a loro piace la musica piace la musica io cerco di trasmetterla e diciamo che per ora sto riuscendo nel mio intento e sono contentissima e certo generalmente chi ama quello che fa riesce a trasmetterlo e quindi questi ragazzi ti seguono e ora io vorrei chiederti anche per dare un una indicazione più ampia dettagliata quando tu sei diplomata al conservatorio quando allora io ho due lauree prima il secondo livello in discipline musicali con appunto ramo canto lirico e pianoforte e ho seguito la prima laurea diploma accademico in conservatorio a reggio colabria la seconda laurea a messina al conservatorio corelli di messina e poi ho proseguito con diversi perfezionamenti andando anche su all'estero spaziando vari master eccetera eccetera quindi ma non si finisce io non mi sento mai arrivata perché più ho e più posso dare sia a livello artistico che anche l'insegnamento qualcosa di importante è tutto importante ma qualcosa che veramente ti è rimasto dentro che tu hai fatto un che so un concerto oppure una rappresentazione in teatro ci sei mai stato in diversi teatri rappresentare appunto le varie opere con il mio ruolo da soprano ho fatto bohème dove ho interpretato musetta un'opera di puccini e poi ancora ho fatto anche nozze di figaro di mozart interverando sempre ruoli miei da soprano e diverse altre sempre gilda a padova e diciamo sono numerose e continuo e voglio continuare a farlo e poi diciamo che tutte lasciano un'esperienza una bella esperienza e che mi porto sempre nel cuore soprattutto con i colleghi i vari cantanti non lo so forse a parigi a parigi si è stato un ambiente magico mi sono trovata benissimo abbiamo fatto dei concerti lì in teatro e delle varie rappresentazioni con grandi artisti e mi sono trovata appunto tutto così di un colpo immersa in questa bellissima favola ma siamo si magica e che porto sempre nel cuore ma ogni in ogni luogo che vado veramente ogni cosa che faccio la porto sempre nel mio cuoricino e anche a livello di insegnamento nelle varie scuole che ogni anno in cui ogni anno mi chiamano però diciamo che sono due bellezze diverse in quanto mi affascinano sì l'insegnamento mi affascina perché posso inculcare e dare ragazzini e far suscitare loro l'amore per la musica ma il canto il canto quello lo sento dentro e quindi quando anche pure facendo un vocalizzo io volo non lo so spiegare perché fa parte di me è una cosa che per esempio da ottobre ho cominciato con la scuola essendo impegnata totalmente con appieno l'ora pieno non ho potuto dare quanto solitamente do per girare e cantare e se dio vuole mi rifarò nuovamente ora a fine giugno durante l'estate o in programma già 20 e poi ti dirò certo e quindi stavo dicendo mi manca tanto perché è una cosa che sento dentro sento dentro quanto tempo dedichi il durante la giornata al canto allora io me lo prendo voi non vuoi me lo prendo sempre la mattina appena mi alzo sempre il mio muto e il mio vocalizzo anche se uno si puoi fare ecco i miei vocalizi che vanno dalla nota più bassa dal due centrale fino all'estensione dell'ottava con lo faccio sempre almeno uno lo faccio sempre lamentano i vicini di casa al solito si eppure no sai mi è capitata una cosa all'inizio quando mi sono trasferita a Rocca di Caprileone perché io sono originaria di Tortorici e allora lì nel palazzo mi sono ritrovata che stavo per uscire a un certo punto mi ferma un vicino di casa e mi dice ah Simona aspetta aspetta mi dica ma è da tanto che non sento quel brano tipo per dire era la memoria di Schubert è da tanto che non sento quel brano perché non lo fai così lo sentiamo ancora quindi fanno le dediche le cose quindi tutto sommato la bella musica io cerco di rispettare sempre gli orari però loro non mi hanno creato mai problemi eh ma perché canti bene perché sei brava perché armonia e quindi è una gioia ascoltarti avrei voluto vedere altrimenti vediamo un attimo ci sono dei ragazzi già tuoi allievi che ti salutano c'è una certa Jenniferosa Tranchida ti saluta ciao bella un bacione anche Diego Diego sì Diego Patriarca lui è amantieri professoressa si ricordi di salutarmi ho detto certamente che ti saluterò insieme agli altri sono bravi questi ragazzi sì 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 sono un amore un amore veramente ma devono seguirti sono un amore perfezionati anche io a loro eh certo è ovvio poi si stava un feeling sono dura sono severa però ricevo sempre tanto e spero di trasmettere anche tanto beh per essere voluta bene non occorre dire sempre sì eh i ragazzi capiscono quando è doveroso e quando il no occorre sì eh sono molto probabilmente molto più eh saggi di noi eh noi genitori molto spesso con quel sì in realtà facciamo eh un tantino il eh facciamo un danno a loro esatto allora eh adesso ci fermiamo andiamo ad ascoltare la pubblicità dopo ti prego ti devi preparare un brano devi canticchiare canticchiare certo devi cantare qualcosa per noi d'accordo con piacere ci fermiamo ritorneremo a breve pubblicità su Radio Doc ritorniamo in diretta ti piacciono i Negramaro sì 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 ti piace questo tipo di musica tanto sì bello anche a me devo dire sì eh qualche brano in italiano mi piace anche se eh c'è qualche altra cosa che eh il nostro regista che stamattina è mio figlio ciao Francesco eh sì sì io ti volevo eh ti volevo chiedere dell'età anche qui in diretta eh che classe frequentano questi bei ragazzi che peraltro sono così affezionati a te E allora loro, Diego, Dieghino, ciao. La seconda, la seconda media. E poi ho tutte le classi, dalla prima alla terza media. Hai visto, lui ti ringrazia perché tu l'hai salutata, poi c'è Leonora Danesi, fa parte anche lei della tua classe. Sì, certamente, che saluto. Ciao Leonora, saluto tutti quanti, tutti, tutti. Salutiamo anche la nostra amica, il nostro fotografo ufficiale, Maria Angela. Certo, ciao Maria Angela. Spero che tu abbia già fatto qualche foto, anche perché i ragazzi che vengono qua, lei, Simona, è una ragazza perché è bellissima. Sì, grazie. Ma certo, sei una ragazzina, sei mia figlia. Io poi, questi ragazzi si fanno i selfie, continuano a fare i selfie, ma mi hanno detto che dopo una certa età i selfie non è che vengono per anche me. Però siccome è arrivato a un certo punto, un punto, chi sto passo a governo, Luca Russi, vi dovete contentare. Non è vero, non è vero, sei bellissima. Beh, credo che nella vita conti tantissimo non la beltà vera e propria, ma la simpatia. Tutte e due. Sì, ma la simpatia ancora di più. E quindi andiamo a continuare a parlare della vostra prof, ragazzi. A dire il vero, mi piacerebbe ascoltare uno di loro. Se per caso ci siete. Oh, oh, intervista. No, no, no. Com'è la vostra prof? Mi sarebbe piaciuto. Potrebbero anche telefonare, tutto sommato. Io non so se mi ricordo il numero. 91, quant'è il nostro numero di telefono, il telefono fisso? 91, 81, 69 per parlare con noi. 0, 9, 4, 1 ovviamente il prefisso. Un coraggioso, c'è un coraggioso. Certamente. Ma credo proprio di noi, i ragazzi si vergognano. Magari a scrivere qui, su Facebook, diventa molto più semplicemente parlare al telefono, obiettivamente diventa più difficile. Allora, questo rapporto con i ragazzi, ti viene difficile instaurarlo? Tu devi insegni semplicemente, cioè la musica in generale, oppure devono seguire, secondo te necessariamente, la tua scia? Il tuo amore, chiamiamolo così. Allora, io cerco sempre di essere, oltre che insegnante, anche amica dei ragazzini. Cerco, come ho detto prima, di trasmettere sempre questo amore che io ho per la musica, sia nell'aspetto teorico, anche storico, perché la musica, le scuole medie, come ogni scuola che appunto si rispetti, non è soltanto pratica. I ragazzini devono sapere anche un genno di nascita e di lettura musicale, no? E poi diamo spazio con me, per esempio, che collegano sempre quasi tutte le scuole, diciamo, che è uno strumento bellissimo, eh? Il flauto. Però, oltre il flauto, secondo me, ci sono svariati strumenti che possono essere messi lì e fatti conoscere agli allievi. Come, ad esempio, lo strumentario di Orf, con i suonagli, maracas, tamburelli, battito delle mani, percussioni e il canto. Il canto, il canto è lo strumento, il primo strumento che è nato. È la voce, la voce umana. E non è perché tu non lo tocchi il canto, non è uno strumento. È uno strumento a tutti gli effetti. E quindi, con me, io faccio mettere da parte il flauto e faccio conoscere altro, ossia il canto corale, questo accompagnamento di strumenti ritmici, il canto a cappella, la voce stessa che fa suono. Abbiamo fatto a Natale. Ma è difficile. Ma loro, sai, riescono. Si riescono. Sì. Loro riescono e poi per loro è una cosa, una novità, diciamo, perché io veramente ci tengo affinché loro portano avanti e diano il meglio, no? E quindi a Natale, per esempio, abbiamo fatto il repertorio di canti a cappella, a prima e seconda voce, a due voci. Prime voce e seconde voci. Ed è riuscito bene. Infatti loro erano soddisfatte e io ancora di più. Certo. E ora sto preparando anche altro con loro. Ma questi ragazzi, io so che tu hai un'associazione che... Sì, a parte della scuola, sì, ho anche una mia associazione. L'associazione culturale musicale Maria Gallas, dove io appunto è mia e gestisco e dirigo. E lì impartisco lezioni di pianoforte, di canto lirico, canto di musica leggera, un ensemble anche di voci, appunto. E questi ragazzi fanno parte di questa associazione oppure... I ragazzini no, perché sono della scuola e... E quindi non possono. Anche perché sono distanti, quindi non... Però se loro vogliono è... Certo, la porta è aperta. La porta è aperta. E poi ora anche musicoterapia, perché essendo musicoterapista... Questo è importante. Svolgo anche questo. Di questo vorrei sapere qualche cosa in più. Sì. Che cosa curiamo con la musicoterapia? Allora, già di per sé... Corpo e mente? Sì, sì, sì. La musica già di per sé, o si canta o si suona qualche strumento, già è terapia. O semplicemente ascoltarla. Perché noi, se facciamo caso, sotto la doccia cantichiamo. Quando siamo felici cantichiamo. Cantichiamo sempre. Il mio figlio anche quando mangia. Sempre. Anche quando mangia. Sì, sì, sì. E' terribile. Sì, sì, sì. È così. È così. La musica si sente. E quindi entra in noi. Con la musicoterapia ancora di più perché ci sono particolari sedute dove si ha contatto proprio con l'io interiore, il nostro io interiore. E anche il silenzio è musica. Il silenzio è musica. Questo mi piace. Anche il rumore è musica. Certo, se è ascoltato nella maniera giusta... È tutto. È tutto un processo di vibrazioni. Dipende da quello che siamo detto. Vibrazioni e come vengono percepite. Tutto è musica. Mi piace, che bello. Tutto è musica. Ad esempio, il massaggio sonore è bellissimo perché li faccio distendere e poi metto su degli strumenti, tamburello sulla parte della schiena e ci passo sopra con un altro strumento detto cabasa che è un sonaglio. Ci si passa proprio, si sentono queste vibrazioni che attraversano la pelle, il battito, la percussione e il tamburo che agisce sul corpo e senti queste vibrazioni. E passano i dolori. Ti senti rilassato. E quindi relax. Sì, sì. Proprio. Un massaggio musicale. Sì, sì. Che cosa stupenda. La camminata sonora. Esci e stai in silenzio e cerchi di percepire tutti i suoni, tutti i rumori della natura. Quindi c'è un contatto, un contatto diretto grazie a questa, ma devi essere particolarmente sensibile. Sì, però sai, sono venuti, tra virgolette, i pazienti che hanno trovato dei benefici enormi. Tipo chi soffre di insonnia, non riesce a dormire la notte, di ansia, queste cose così. E loro erano rilassati con una tre, quattro sedute di musicoterapia. Funziona. Ma perché c'è un modo particolare di ascoltare la musica? Poi ho metto anche io il mio canto, sugli ho metto anche, diciamo, un tutt'uno faccio. Vedete un po' gli effetti positivi della musica e di chi sa veramente utilizzarla. Perché tu hai un diploma per poter fare musicoterapia. Sì, di musicoterapia. Sì, è il primo e il secondo livello di musicoterapista. Ah, caspita. E quindi credo che sicuramente la musicoterapia, più che il corpo, vada a curare la mente, l'animo. Un animo ansioso preso da mille preoccupazioni, ma soprattutto preso dal... Deve essere fantastico. Eh sì. Io non lo sapevo, ma io sto bene semplicemente ascoltando musica. Eh, questo è anche musicoterapia. Eh, musicoterapia. Musicoterapia è alla buona, ma è musicoterapia. Esattamente. Eh, oltre questo, cos'è che ti piace di più di questo dono che ti ha dato Dio? Perché tu hai un dono, un dono che devi dividere, condividere con tutti quanti noi. Quindi tu fai qualcosa per aiutare il prossimo con la musicoterapia, trasmetti la tua conoscenza e il tuo amore. Ma quello che ti soddisfa di più, che cos'è? Che cosa riesci a dare al prossimo con questo dono che hai? Da parte di me è Simona Calau, quale musica. Non so dire altro. Bello. Perché è una cosa che sento dentro. È amore. 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 Amore che non soltanto per la musica, ma anche amore per tutto quello che ti circonda, per la natura, per l'essere umano. Ti fa vedere la musica, l'essere umano, diverso da quello che in realtà è? Cioè, può aiutare ad accettare qualunque negatività? Perché l'essere umano è positivo e negativo, non c'è nulla da dire. Io cerco sempre di trovare in ogni cosa la nota positiva. Sempre. E cerco sempre di mettere sempre un sorriso. Secondo me aiuta tanto. Anche se sei triste dentro, a volte, così, per svariate ragioni. Alla fine tu cerchi di trovare sempre quella cosa positiva e cerchi di mettere, metto questo sì, questo pantalone, questa giacca, ok? Ma il sorriso sempre. Mi piace. Hai detto una cosa importantissima. Allora, metto sempre la nota. La nota, sì, perché è la nota musicale. Ma che bello. Il tuo figlioletto, che abbiamo avuto la possibilità di conoscere perché sei venuta qui l'anno scorso insieme a lui, e che continua ad amare questa musica. Che cosa dice? Raccontaci. Lui, amore mio, quest'anno io sono stata felicissima, in quanto lui praticamente tutto un tratto è venuto e mi fa Mamma, io voglio conoscere la musica. Che senza, amore mio, vuoi conoscere la musica? Voglio proprio leggere la musica, come si legge italiano, come si fa la matematica, voglio vedere come si fa la musica. Io contentissima, aspetta, vieni. Abbiamo cominciato subito con le prime nozioni teoriche. E quindi è bravissimo, non perché è mio figlio, ma già, secondo me, sente questa cosa e io spero che la porti avanti. Non l'ho mai forzato, perché deve essere lui a dire, mamma, mi metto qua e suono, mamma, mi metto qua e canto. Ora... La curiosità. Come fa la mamma a leggere? Voglio leggere anche io. Eh, infatti. Stupendo, bello. I tuoi ragazzi, intanto, lo facciamo dopo. Sì. Al rientro, perché adesso andremo ad ascoltare la pubblicità, parleremo un tantino di quello che sostengono, dicono e confermono i tuoi ragazzi. Allora, a fra poco, andiamo con la pubblicità. Siamo sempre qui a Radio Doc, detto tra noi, in compagnia della soprano Simona Calà. A dopo. Ok, siamo ritornati. E adesso daremo la possibilità ai tuoi alunni di riascoltarti. Ok. Anche perché si lamentano. Oh, mannaggia, non ho potuto ascoltare la bellissima voce della prof. Eh, prof, che bello che è. Sì, sono un amore. Sei riuscita a toccare il loro cuore, a toccare la loro anima. E allora, vogliamo salutare questi ragazzi? E per ogni... Sì. Eh, aspetta, devi togliere un tantino la voce. Ah, calola! Silenzioso. Andiamo. Perché ci riascoltavamo. Ok. Allora, a Diego l'abbiamo salutato. Intanto lui, a quanto vedo, ha un debole per te. Diego! Diego! Lui spera di averti sempre come insegnante. Fino a quando... Bellissimi sono. Fino a quale anno si... Molto probabilmente, forse, finirò l'anno scolastico, scusate. Prego. Perché, non lo so, vediamo. Vediamo. Allora, Diego l'abbiamo salutato, poi c'è... Lei si chiama Satia Fallo? Sì, lui. Ah, e lui, scusami. Che saluto anche. Sai perché? È sempre il mio allievo di Librizi, sono i ragazzini Librizi. Finendo il nome con l'A, pensavo che appartenesse al sesso femminile. Sì, perdonami, è un nome che non avevo mai letto. È un nome particolare, anch'io all'inizio lo sbagliavo sempre, vero? Non avevo mai sentito questo nome, bello, originalissimo. Poi dobbiamo salutare anche Eleonora. Eleonora, sì, sì. Loro ti fanno i complimenti perché tu sei bravissima, sai spiegare. Grazie, sono troppo dolci loro. È bella, brava, di tutto e di più. È bellissima, ci aiuta sempre. Ma non vi aumento il voto. Scherzo, scherzo. Poi loro sperano che tu possa restare anche per il prossimo anno. Il prossimo anno non si sa. Ci saluti, prof, dice Giovanni Traviglia. Ciao. E dopo, e dopo, e dopo, Eleonora, Diego e Satia. E poi dice, aspetta, Eleonora. Che dolcissimi. Ragazzi, siete la gioia della vostra insegnante perché sono soddisfazioni. Alla fine i sacrifici si fanno per i propri figli. E tu, magari i figli no, perché sono grandicelli, ma fratellini sono contenta. Loro parlano di un concerto di fine anno. Speriamo, dicono che il tutto riesca bene anche nel concerto di fine anno. Che cosa avete preparato? Stiamo preparando con alcuni di loro un laboratorio musicale, in quanto li porterò per la rassegna nazionale di canto a Merto. La rassegna per Cacciolo. E poi, invece, per fine anno, li farò esibire con diversi brani corali, giusto per salutare tutti. E quindi faranno una rappresentanza e una rassegna con tutte le scuole, chiamatasi appunto CREARTES. Ci saranno tutti i plessi in cui sto insegnando, Montalbano, Librizi, San Piero Vatti. E li unirò e farò fare loro appunto questi canti particolari, sempre con l'intreccio delle due voci, prime e seconde voci. Alcuni a cappella, alcuni canti afroamericani, tutti con accompagnamento ritmico e tutti con effetti della voce. È una cosa bella. Caspita, importante. Saranno bravissimi, sì. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie di qua, riluco. Senti, amore, adesso vogliamo parlare dei progetti futuri, anche perché parliamo dopo? Sì, allora, abbiamo un brano musicale, dopodiché parleremo dei tuoi progetti, va bene, Simona? 11.48 minuti primi, ritorneremo sempre fra poco su Radio Doc, ha detto tra noi, in compagnia di Simona e Terry. Anzi, ogni cinque minuti... Ritorniamo in diretta, eccoci qui, siamo aumentati di numero, è arrivato il nostro amico Marco Rocca. Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici all'ascolto. Come stai? Beh, benissimo, fortunato, privilegiato, due fanciulle affascinanti, cosa voglio in più dalla vita? Isabella, scusami, ma era dovuto, è la verità. Isabella, per ora, è veramente felice perché è andata a Catania e ha assistito alla nascita di un bambino stupendo che risponde al nome di Andrea. Quindi, auguri ad Andrea. Auguri. È veramente una cosa bella, nel periodo pasquale una nascita, una rinascita. Tu, Marco, conosci la nostra ospite Simona Cala. Assolutamente sì. Hai avuto la possibilità di ascoltarla? Beh, quello è fantastico, ma ascoltarla è un piacere, ma ascoltarla in un momento di dono è ancora di più, perché Simona ci ha fatto un grandissimo regalo, ci ha offerto un suo concerto in un'occasione di un evento di solidarietà. Devo dire, con tutta la gioia, ma soprattutto con l'emozione che traspariva dalla sua voce, perché in quel momento noi abbiamo percepito che lo faceva per il piacere di essere con noi, oltre che per il piacere di esibirsi con la sua vera voce. Sì, l'ho fatto di un immensa amore, sì. Bene, noi con Simona stavamo parlando della sua attività e la domanda che era rimasta nell'area, alla quale lei ancora deve rispondere, riguarda i progetti futuri. Ormai facciamo parlare un tantino, Simona, dopodiché cederemo la parola a Marco che ha delle cose importanti da dirci. Allora andiamo, Simona, vediamo un attimino il futuro. Solo questo, che c'è una carellata di progetti, sono scaramantica però, per il momento, non dico appunto per scaramanzia, però sì, ci sono a livello di concerti, a livello di registrazioni, cd, e mi fermo qui. Vabbè, fermiamoci qui. Fine giugno, se volete, ci rivedremo e là dirò con esattezza tutto. Allora, noi vivremo nell'attesa. Come marketing è stata perfetta, ha gettato l'amo, ci ha incuriosito, però ci ha lasciato così, in sospetto. E meno male, dai, così lei si farà rinvitare a giugno, avremo ancora questa ragazza e la cosa bella, un seguito veramente incredibile, questi ragazzi che adorano. Sì, sì, vabbè, ma si stanno conquistando un buon voto, secondo me. No, la simpatia c'è, però mi sembra giusto. Il fatto che riescano a dedicare del tempo con i 2000, con le chat che hanno, vuol dire che ci seguono. Mi sono affezionata tantissimo a loro, veramente, li porterò sempre nel mio cuore. Ora, volevo che tu salutassi, oltre questi ragazzi che sono presenti in chat, anche tutti gli altri, che magari tu hai leggermente dimenticato qualcosa per caso. Allora, no, no, io saluto tutti coloro che mi stanno ascoltando, i miei amici, soprattutto il mio piccolino, Johan, al quale do un bacione grande, grande. E tutti auguro, appunto, colgo l'occasione, vabbè, che ancora ci sarà modo di farlo, però ne approfitto per augurare a tutti una buona e serena Pasqua, sempre. Dico ai tuoi allievi che, se vogliono, possono restare ancora in contatto con noi, anche perché la vostra prof rimarrà qui, visto che ascolterà insieme a me, insieme a voi, le notizie che ha da darci il nostro amico Marco Rocca. Sicuramente ci parlerà, già la settimana scorsa avevamo detto qualcosa, ma adesso lui si sbottonerà. Marketing, marketing, più non posso Marco, eh? No, no, solo abbracci e ringraziamenti, perché la settimana scorsa avevamo qui davanti due uova di Pasqua. E devo ringraziare veramente tutte le realtà dei Nebrodi, anche al di fuori dei Nebrodi, perché c'è stata tantissima solidarietà. Il messaggio di questo famoso pulmino per un sorriso, probabilmente ha colpito molti di voi e questo mi fa piacere. Questo ha significato che nelle nostre piazze moltissimi si sono avvicinati, hanno acquistato l'uovo di Pasqua e quindi ci hanno dato quella piccola risorsa, che però è diventato un mare di risorse, tante piccole gocce, che ci permetteranno di continuare sicuramente anche per l'anno prossimo. Quindi la buonissima notizia è questa. Grazie, grazie di questa solidarietà, di questa spontaneità e soprattutto la cosa che mi ha colpito moltissimo, io so, ero in piazza a Capodorlando con gli amici, era vedere i genitori che spiegavano in maniera molto semplice, ma molto dolce, il perché quest'uovo e non un altro uovo. E questo penso che sia il risultato maggiore, perché come fa Simona a scuola, come fa Terry con il suo programma, anche i genitori giustamente spiegavano la differenza di acquistare quell'uovo piuttosto che un altro al supermercato o quello visto in pubblicità. Eppure i ragazzi lo accettano veramente con tutto il cuore, io ne ho presi due, stamani ti volevo scrivere, poi alla fine ho lasciato perdere, dico io magari faccio magra figura, non ne hanno più. Ci sono ancora? Sì, ce ne sono. Eh no, ne prenderò anche uno. Allora dobbiamo prenderli, perché regalare questo significa molto probabilmente salvare più vite, non una soltanto. Sì, 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 assolutamente. Significa proprio dare una piccola speranza, aiutare. Adesso, oltre al progetto del Pulmino, avremo la necessità di spendere degli altri soldini, perché l'ospedale dei bambini di oncomatologia a Palermo tornerà nella sua sede originale che era inagibile e qui significherà ancora comprare delle attrezzature, eccetera, eccetera. E quindi occorrono fondi. Quindi occorrono fondi e questi bimbi aspettano con un sorriso che arrivi qualcuno. Inoltre mi piace ogni venerdì ricordarlo, anche perché con questo ricordiamo un sacco di cose, e soprattutto ricordiamo tanto amore. Donare vita, amici. Sì, 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 assolutamente. Donare è vita, è amore, ma soprattutto è vita. E dalla morte, come diciamo sempre noi, nasce la vita. Quindi non si muore veramente, perché con un atto d'amore si continua a vivere. Adesso che facciamo? Ci fermiamo, figlioletto? Ci fermiamo, andiamo ad ascoltare un brano musicale, dopodiché il nostro amico Marco parlerà di un qualcosa di molto bello, di una testimonianza che sicuramente è da seguire. Andiamo con la musica. Questa è Radio Doc, detto tra noi, la splendida Simona Calà. Splendido come sempre, Marco Rocca. Siamo ritornati in diretta. Radio Doc, detto tra noi, detto tra noi adesso, la nostra amica Simona, che in questo momento ha preso, prende un bel caffè, risponderà ai suoi alunni, ma soprattutto, sai... Ribuongiorno. Ah, ribuongiorno, bimbi! Quanti adorano questi ragazzi! Ma che belli che sono! Dolcissimi, dolcissimi. Invece sai cosa volevo chiederti, Simona? Sì. Tu partecipi molto spesso a raccolta, fondi, beneficenza. Che cosa fai? Io dono la mia voce. Brava. È un dono il suo. È un doppio dono. È un dono suo che condivide con gli altri. Sì, veramente, e lo faccio con il cuore, davvero. È una cosa bellissima. Hai visto? Dono. Si parla, quando si parla di solidarietà, di amore, si utilizza sempre questa parolina magica. Dono. Dono. Donare gli organi, donare la voce, donare il sangue. Donare il proprio tempo. Il proprio tempo, sì. Donare. Grazie al dono si possono salvare tantissime vite. E così come, per esempio, raccogliendo fondi, un euro, due euro. Insomma, quando noi andiamo a comprare l'uovo di Pasqua dall'associazione, in fondo spendiamo dieci euro, ma se andiamo al supermercato, quanto ne compriamo? Per carità, tutti devono vivere. Nel senso che anche le imprese, eccetera, eccetera, è giusto che ci siano anche le marche, che ci sia business, perché l'economia deve andare avanti. Ma se io ne devo comprare dieci, cinque è cinque. E così posso fare anche della beneficenza. Che, peraltro, dice che donare, fare beneficenza, si deve fare in una maniera molto garbata, leggera, soft. E anche il Vangelo non sappia la destra, quello che fa la sinistra, perché tutto il resto è palcoscenico. E allora, Marco, vogliamo parlare di questa persona che ha dato tanto e che dà soprattutto dopo la sua dipartita. A Marco. In questi giorni, io anch'io sul mio profilo Facebook, mi sono preso la libertà di dire ciao Fabrizio, parlando di Fabrizio Fizzi. Perché mi sono preso questa libertà? Perché ovviamente, ormai lo sapete tutto, ma io lo sapevo già da tempo, Fabrizio Fizzi ha avuto esattamente la mia stessa esperienza, ha donato il midollo osseo. Lui, con in più una fortuna, ha conosciuto la persona che l'ha ricevuta. Però io credo che lui l'ha fatto con molto garbo, l'ha fatto senza proclami, ha fatto il testimonial, però ci ha dato un ulteriore dono. Perché in questo momento vi posso, credetemi, i centralini di tutta Italia dell'Associazione Donatore Midollo Osseo, Atomo, di cui mi onoro di fare la parte, sono pieni di telefonate di persone che, sentito di questo gesto, chiedono informazioni. Quindi Fabrizio, oltre a aver, è inutile, basta guardare un telegiornale o leggere i giornali per capire di come la sua vita sia stato un esempio, anche dopo un evento così tragico, il suo messaggio di dono viene veicolato e solo citarlo scuote le coscienze delle persone, ma soprattutto scuote l'animo. Quindi quel grazie Fabrizio deve essere amplificato al massimo. Lui, in silenzio, ha donato il midollo osseo, quindi ha salvato una vita. E oggi ci invita a farlo, anche se non è più tra di noi. L'esempio, quello che in realtà insegna, e che segna, e saperlo in questo momento è ancora più importante ed efficace del tempo passato. Se noi l'avessimo saputo molto probabilmente quando lui l'ha fatto, non so quando si è verificato, circa dieci anni fa? No, dunque, aspetta, io ho donato nel 2000, lui nel 2000, se non ricordo male, io nel 2002 e lui nel 2000. Molto probabilmente sarebbe passata la cosa così sotto gamba. Invece saperlo adesso, proprio quando adesso c'è anche la cultura, badiamo bene, c'è molta informazione, c'è anche la cultura. Questo messaggio arriva in una maniera molto forte e viene, da quello che ci dici tu, recepito da tutti quanti noi. Certo, vogliamo ricordare, tanto per, sai, questo è anche l'assist che ci dà anche in questo momento. Ormai è una donna di basket. Non c'è niente da fare. Chiedo scusa al regista, ma donna di basket, non dico altro. Stavano su un masaccio. Però è la più efficace. Appunto, quella che fa segnare. Quella che fa segnare. Quindi vogliamo anche dire, soprattutto, come si fa a donare e fino a che età e da qualità si può donare. Sia tutto quanto, sangue, organi. Allora, da 18, 18 per forza, non c'è ombre di dubbio. Da 18 a 35 anni ci si può iscrivere al registro dei donatori di midollo osseo. In questo registro si rimane iscritti automaticamente fino al compimento di 55 anni. Poi dopo, per evitare problemi di salute o rischi, si viene cancellati. Mentre invece, per donare il sangue, da 18 a 65 anni, senza problemi. E poi per le mamme, ogni volta che c'è il lieto evento del parto, esatto, il dono del cordone umbilicale, che è un altro gesto d'amore importantissimo che ci possiamo veramente regalare. Quello è un doppio dono per la mamma e il papà di quel bimbo o di quella bimba. Visto che hai donato... E so pure che è stato compatibile perché mi hanno telefonato e mi hanno anche ringraziata. Ah, è stato utilizzato? Sì, è stato utilizzato. Ah, bene, è fantastico. Questo è un altro assist. Abbiamo in diretta... A Sant'Agata Militello l'ho fatto. A Sant'Agata, sì, esatto. E allora, volevo chiederti, Simona, visto che tu l'hai già fatto, ti ricordi l'iter? Che cosa hai dovuto fare per poter donare? Non te lo ricordo... È analisi del sangue, controlli vari, però... L'unico piccolo particolare è che... Simona non se lo ricorda, ma ci credo. Perché ero... Ecco... Era un momento in cui non c'erano molte... C'erano altre priorità. No, diciamolo alle mamme. Dovete semplicemente... Alle future mamme. Dovete semplicemente manifestare la vostra volontà. Firmare un documento. E firmare un documento perché è una parte del vostro corpo, il cordone umbilicale, quindi se voi non date l'autorizzazione, purtroppo in autonomia l'ospedale non lo può prelevare. Esatto. Però io sfido chiunque, tutte le mamme con gioia, danno questo assenso. Questo dopo il parto, quando il cordone umbilicale sta per diventare un rifiuto speciale, è buttato via, mettono una piccola iniezione di sottopressione, aspirano il sangue cordonale, viene mandato a sciacca e conservato per 15 anni in azoto liquido a meno 200 gradi. Mi è stato utilizzato già. E poi, certo, dopo 15 anni non è più utilizzabile, però in quei 15 anni ci sono possibilità che ci sia qualcuno compatibile. E così, doppia vita si dà alla luce a un bambino e molto probabilmente si salvano altre vite. Mamma mia, il miracolo della vita. E che bello, ogni venerdì, io sono felice di parlare con Marco di queste cose, perché, sai Marco, tutto questo non porta tristezza, ma porta gioia, gioia di vivere e dà consapevolezza che l'uomo, tutto sommato, non è cattivo, ma è fondamentalmente buono. Dentro di noi esiste sempre quel fanciullo. Parlarne ti cambia la vita. Difatti, quando mi capita di fare le mie testimonianze nei convegni, tutti si stupiscono perché mi dicono perché tu ringrazi di aver donato? Dovrebbe essere il contrario, chi riceve. Ma per me il dono è stato quello di cambiare la mia vita, perché quella percezione che tu hai di poter salvare una vita e sei cosciente e consapevole ti cambia in meglio. Certo, poi possono succedere duemila problemi, duemila disgrazie, la vita ci offre di tutto, però l'affronti in una maniera diversa. e quindi anche la speranza di avere la mia fortuna secondo me può cambiare la vita. Non è necessario arrivare alla donazione vera e propria, ma solo immaginarla, sognarla. Per me basta sognarla, ecco. Quindi ti ha cambiato, hai detto prima in meglio, ti ha cambiato il modo di vedere, di approcciarti con il prossimo? Assolutamente, sì. Sì, sì. Io ritengo, ho diminuito qualora li avessi i miei pregiudizi, ma soprattutto ho la consapevolezza di affrontare tutto con un sorriso, perché questo gesto che mi è stato donato mi ha dimostrato che si può fare. Potrebbe sembrare sciocco, semplicistico, però quantomeno ti aiuta ad affrontare tutte le avversità che in ogni caso la vita mi riserverà e mi sta riservando, perché sono un essere umano anch'io. Però lì vivo e penso di poterlo anche trasmettere a chi mi sta vicino. E questa è la cosa più importante. Bellissimo. Dio santo, come un gesto d'amore in realtà ci può cambiare letteralmente la vita. Ma perché questi gesti in realtà sono isolati? Cioè voglio dire, non è che tutti gli esseri umani siamo lì pronti a donarci e a farci cambiare la vita. C'è una forma di ritrosia, come se ci fosse una barriera. Fra noi è il dono da ricevere. Cioè voglio dire... Sì, è una barriera, ma è una barriera generata dalla non conoscenza. Bravo. È solo quello, perché alla fin fine, dico razionalmente, quando io vengo a sapere e qualcuno mi spiega che il giorno in cui diventerò un cadavere i miei organi possano salvare un'altra vita, oggi cosa mi frena? L'idea, cito la donazione degli organi perché forse è quella sicuramente più traumatica per una famiglia, però se c'è una morte celebrale di una persona e dico se non ci credete, fate una chiacchierata con la famiglia Mangano, ahimè che nella nostra realtà di Capodorlando è l'ultima che è passata attraverso questa esperienza, la consapevolezza che quella tua scelta di andare a donare sangue ogni tre mesi, di diventare un donatore, di donare il cordone umbilicale che viene buttato via o gli organi possono salvare una vita ma tu la superi questa barriera che tu dicevi Terry grazie alla conoscenza, tu sai cosa succede, poi dopo sei sereno, puoi decidere sì o no, la barriera è che io non ho informazioni, quella sì. E per questo noi siamo qui ogni venerdì e quando ce n'è la possibilità anche negli altri giorni e siamo, non ci stanchiamo mai di informare ma soprattutto Marco noi di Radio Doc detto tra noi è il 3 d'union però grazie a Marco abbiamo scoperto tantissime cose in realtà ci siamo fatti una cultura a proposito. Se però vi stufiamo avvisateci, non vorremmo stressarvi. Con Terry non ci possiamo stufare perché il garbo per cui propone sempre questi argomenti è anche la chiave di successo perché effettivamente questo non è una sviolinata ma è un feedback da tutte le associazioni che sono venute a questi microfoni. Io poi rincontrandoli non ho mai avuto riscontri negativi, sempre positivi, quindi vuol dire che evidentemente siamo efficaci. Nel nostro piccolo, attenzione, non vogliamo incensarci. No, però è importante perché grazie a questa trasmissione, grazie a Radio Doc veramente abbiamo fatto informazione. Finalmente molte persone sanno nel momento in cui si verificano determinate situazioni, non vogliamo andare nello specifico, sanno a chi rivolgersi in qualsiasi momento, sia per malattia, sia per violenza, sia anche semplicemente per un gesto affettuoso, per una parola di conforto e questo è molto importante. Non sentirsi soli è una cosa incredibilmente importante di questi tempi, quando la solitudine si taglia, si affetta nel vero senso della parola. Quindi grazie, soprattutto io direi, e soprattutto a Marco, perché lui, in fondo, sei il presidente di tutte le associazioni, giusto? Quindi, tutto sommato, è lui che ci porta per mano e ci fa conoscere la realtà delle associazioni. Adesso musica, grazie a regia, ritorneremo a breve, sono le 12 e 37 minuti primi, questa è sempre Radio Doc, detto tra noi a tra poco. E ritorniamo in diretta, eccoci qui. Sì, adesso sono le 12 e 46 minuti primi, abbiamo ancora a disposizione, pochi minuti, il tempo di regista. Cosa facciamo? Continuiamo con i saluti e poi mandi un brano musicale oppure due minuti? Vabbè. Volevo dare la possibilità. Noi, mio caro amico Marco, abbiamo già parlato di tutto, vero? C'è qualche altra cosa che vogliamo... No, semplicemente un flash di quello che è accaduto sabato sera, ecco, che è stato sempre in tema di uova. Tutti gli amici e i ragazzi del centro Navacita di Naso che abbiamo conosciuto come nostri ospiti sono venuti a vedersi la partita dell'Ornina Basket. c'è stato un momento di convivialità però per sottolineare lo spirito di solidarietà l'associazione No Limits che è un altro nostro amico con Patrizia Galipò ha ritenuto opportuno in questo momento di condivisione davanti a duemila persone di regalare anche l'uovo perché anche quell'uovo ha avuto molto successo che finanzia, ricordiamoli, è l'unico lido gratuito nella nostra zona cosa importantissima e l'emozione si è mischiata Associazione Siciliana Leucemia Centro Navacita No Limits tutti insieme in mezzo al campo con la comunità di Capodorlando. Bellissimo. Quando si parla di miracoli miracolo dello sport miracolo dell'associazione e così dell'inclusione una cosa bellissima perché poi alla fine di fronte a certi eventi finalmente siamo tutti uguali. Ma tu ci pensi? Che cosa bellissima. Ecco, questo è il vero obiettivo che ci dovrebbe fare raggiungere lo sport in questo caso il basket. Una bella esperienza Marco. Sì, molto emozionante. E' emozionante, vero? Peccato che io non ci sia stata lì. Comunque, che ti posso dire? Però siamo finiti anche su Eurosport perché la partita era trasmessa in diretta e quindi c'è uno spezzone di filmato. Se volete lo trovate sul mio profilo. Ah, sul tuo profilo lo troviamo? Perfetto, allora dobbiamo andare a vedere A cercare subito. Sì, 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 perché sarà emozionante e quindi anche noi vogliamo godere di questa emozione. Sì, sì. Amica mia, adesso noi siamo arrivati veramente alla fine del programma. Sì. Le tue emozioni, che cosa vorresti a Pasqua? Non dirmi l'uovo di Pasqua grande, grande, grande. Quello lo diamo al piccolo. Eh, ma che ogni giorno sia Pasqua. Sì, bello. Sì, bello. Pasqua che poi alla fine è la festa della pace, dell'amore, del perdono. Sempre. Chissà perché. Sempre così. Io ho sempre ricordato con grande soddisfazione che quando ero bambina mi hanno inculcato proprio che questo periodo bisognava perdonare tutti quanti. Qualunque cosa. E' Pasqua, perdoniamo. Ma ora, visto che tu hai accennato a questo perdono in musica. Voglio. Prima di salutare. Con piacere. Vuoi cantarci qualche cosa? Canto, canto. Ti canto, canta, canta. Allora, la dedico a tutti voi. è una rietta tratta dall'operetta Il paese del sorriso di Franz Lehar. E tu che mi hai preso il cuore. Tu che mi hai preso il cuore Sarai per me Il solo amor Noi non ti scorderò Vivrò per te Ti sognerò Perché sei tu Che mi hai preso il cuore. La pelle d'oca E adesso che diciamo? Emozioni fortissime. Che facciamo? Che diciamo? Cosa possiamo dire, Terry? C'è niente da dire. C'è niente da dire. Mi hai fatto venire la pelle d'oca. Grazie. Che cosa bella. Mamma mia. La musica Unisce. Che invidia. Sì, questa è un'invidia Ce la devi permettere Un'invidia buona. Eh no, sana. Grazie. Perché è buona. Grazie mille. Perché credo che L'essere umano Che è capace di Cantare Scrivere Suonare Oh mamma mia. È l'essere umano Più fortunato della Terra. Grazie mille. Perché È il complimento più bello Che si possa ricevere. Eh, mamma mia. Un talento così Ma che belle d'oca Ma che bello Chiudere così oggi. Grazie. Saranno stati Felicissimi I tuoi allievi Di ascoltare Questa voce Così Melodiosa. Grazie ancora. L'usignolo abbiamo qua. Grazie. Amici Andiamo con un brano musicale Dopodiché Ritorneremo In diretta Qui Per poter Passare Ai saluti. Adesso Sì Non è che Ci stia Granché bene Perché Lei E lei Mentre loro Sono GX E Fedez E sono senza Rolex Peccato Ci siamo Passiamo ai saluti Ma intanto Lei Cantava per noi Mi voto Tanto per cambiare Io canto Dai Solamente due Non è strofa Dai Mi voto Mi voto E mi rivoto Suspirando Passo L'interi notti Senza sonno Mamma mia Brava Complimenti Eh ma facciamo pagare il biglietto adesso Grazie Uno spettacolo gratuito Facciamo poi Concetto live Perché no si potrebbe fare Certo Dobbiamo organizzare un concerto per cogliere fondi Esatto Per aiutare le associazioni Per esempio la nostra associazione Un pulmino per Sovvenzionare Questo progetto Un pulmino per un sorriso Ci penseremo e organizzeremo Allora Passiamo ai saluti Perché finisce qui Detto tra noi Prego tesoro Sono stata Proprio benissimo Dicevo a Terry Sono volate queste ore In una maniera Pazzesca E Ciò vuol dire che Mi sono sentita Come sempre A casa E Ne approfitto per rinnovare nuovamente gli auguri di Pasqua Che sia sempre una felice, serena e buona Pasqua per tutti Grazie per avermi ospitata nuovamente qui E E che dire Passo la parola a te Grazie a te Gioia Grazie Grazie perché per noi è un onore averti qui Ascoltarti Sentire la tua voce E godere delle emozioni Grazie mille Che ci sai trasmettere Grazie Quindi ti aspettiamo molto presto Con piacere E magari Nel periodo in cui Sì Sapremo qualche cosa di positivo Ok In bocca al lupo Ad mai ora Grazie Di cuore vive il lupo Mercuccio Noi ce ne andiamo Sì Con l'augurio A tutti di provare magari a sognare un dono Bello E loro hanno detto tutto Lui vi augura un bel sogno Sognare un dono Ma che cosa fantastica E insieme allora Sai Visto che è la festa della pace Dell'amore Del perdono Che cosa possiamo dirmi noi? Come salutiamo Come salutiamo noi? Ma come? Andiamo A Ma Te Vi Wow Ciao Ciao a tutti